Una nuova banca sta per nascere nella regione. L'iniziativa presa nel maceratese è arrivata a buon punto. Sono numerosi i sottoscrittori del capitale e ora si attende l'ok della Banca d'Italia. Potrebbe aprire i primi sportelli entro l'estate la banca della provincia di Macerata. Il comitato promotore, dopo un anno di attività, durante il quale è cambiata anche la legislazione sulle società, raccolta adesioni da parte di 894 sottoscrittori per un capitale sociale di 7 milioni e mezzo di euro. Sono intanto diffusi su tutto l'intero territorio della provincia e sono costituiti da semplici cittadini, casilinghe, pensionati e poi piccoli operatori economici, sia nel settore della produzione che nel settore del commercio. In particolar modo nel settore della produzione siamo stati avvantaggiati dalla partecipazione a questa iniziativa della CNA e sul fondo del commercio della Confesercenti. L'Assemblea dei Soci ha già costituito la società banca della provincia di Macerata e ha individuato la società di revisione. È stata scelta anche la banca Tutor che fornirà servizi e prodotti, la Cassa di risparmio di Ferrara, che ha sottoscritto il 4,5% del capitale. È una banca che ha per missione il sostegno al proprio territorio e quindi una banca locale che da un po' di tempo si è data anche una missione di sostegno allo sviluppo dei territori dove nascono banche locali come le nostre. Ora tutta la documentazione passa alla Banca d'Italia per l'autorizzazione. Noi siamo abbastanza fiduciosi nel riuscire ad attivare i primi sportelli di questa banca a ridosso dell'estate.